colori sapori e profumi della costiera malfitane in un bicchiere tutto questo e non solo e calici di stelle torna puntuale anche quest'anno l'appuntamento con l'evento clou dell'estate nella divina costiera nella notte di san lorenzo sabato 10 agosto le stelle cadenti illumineranno la casa del gusto di tramonti che ospiterà come da tradizione la manifestazione saranno proposte alcune delle tipicità del territorio preparate dalle sapienti mani del chef Pamela Vigiano accompagnata da Francesco Maiorano la casa del gusto si trasformerà per una serata nel teatro dei sapori ad anticipare la degustazione un incontro con alcuni esperti del settore tramonti terra di vini dalla viticoltura eroica alle innovazioni tecnologiche all'insegna della qualità sarà una serata magica nella quale sarà possibile ammirare le stelle grazie alla collaborazione con il centro astronomico Neil Armstrong Salerno la manifestazione promossa nell'ambito delle iniziative delle associazioni città del vino e organizzata dalla proloco tramonti con il patrocinio del comune di tramonti si propone come vetrina per i migliori prodotti del territorio sarà un viaggio sensoriale una passeggiata di emozioni tra le fragranze del vino stelle cadenti e primo cibo nel meraviglioso e unico scenario di tramonti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti